Diciamo subito che voteremo sì a questo scostamento di bilancio e lo voteremo convintamente, proprio perché siamo all'opposizione per il lavoro fatto di dialogo tra maggioranza e opposizione nei precedenti giorni. L'emergenza coronavirus è un'emergenza eccezionalmente drammatica. Diciamolo con chiarezza, è andata oltre ogni previsione. Molti di noi lo hanno sottovalutato. Da quel lontano 21 febbraio, che sembra lontanissimo ma sono passati solo 20 giorni, oggi abbiamo, i dati di ieri, 10.000 oltre 10.000 contagiati, quasi 6.000 nella sola regione Lombardia, 631 morti. E la prima urgenza per tutti noi è fermare insieme con qualsiasi misura questo drammatico contagio. In gioco c'è la salute, c'è il benessere, c'è il senso stesso del nostro stare insieme. La politica, il Parlamento deve riscoprire, proprio in questo momento, il ruolo di sintesi della vita di una comunità. Diceva il grande Elliot che vita è la nostra se non è vita in comune. Per questo era ed è necessaria una risposta immediata e unitaria di maggioranza e opposizione sul fronte sanitario, sul fronte economico. Questo è avvenuto e sta avvenendo. L'1,1% di scottamento del PIL, 25 miliardi a disposizione, sono un segnale importante. Dovremo declinare insieme nei prossimi giorni come usare queste risorse. Ma vi dico subito, signor Ministro, che ci sono tre semplici parole che devono indirizzare la nostra azione. Subito, per tutti e in maniera semplice. Ecco, c'è l'emergenza sanitaria che è drammatica insieme a quella economica, ma c'è ancora, signor Presidente, un'altra drammatica emergenza a cui dobbiamo dare risposta, che è la paura. E' quella paura che ho visto oggi negli occhi in lacrime di cui è la titolare di una notte netteca di Roma. E' quella paura di chi si scopre positivo. E' quella paura di chi sta lottando in questi giorni, e non dimentichiamocelo, l'abbiamo sottovalutato, tra la vita e la morte. E' quel coraggio eroico del quotidiano, lo abbiamo detto tutti, e concludo, signor Presidente, di chi ogni giorno è in campo per aiutare a combattere questa epidemia. Personale medico, infermieri, tutti, tutti quelli che in una comunità si riscoprono il protagonismo. Ecco, concludo, signor Presidente. Proprio in questi momenti è necessario indicare alla nostra comunità una strada da seguire. Papa Francesco diceva in maniera semplice ieri che il dialogo non è ideologico. Il dialogo è una cosa molto concreta, è fare le cose insieme. Noi lo stiamo facendo, stiamo iniziando a farlo. Mi auguro, signor Ministro, lo dico al Governo, che possiamo, nella differenza dei ruoli e con proposte diverse, farlo anche nei prossimi giorni. Grazie.